ciao a tutti un breve tutorial su come suonare il nuovo singolo rise di Katie Perry realizzato in occasione delle Olimpiadi 2016. Il brano è costituito da quattro accordi nella tonalità originale sono Re diesis minore, Si maggiore, Fa diesis maggiore, La diesis settima. Se vogliamo suonarlo in maniera più comoda possiamo utilizzare il capotasto alla posizione del quarto tasto e avremo quindi le diteggiature del Si minore, del Sol maggiore, del Re maggiore, del Fa diesis settima. Ok, spero vi sia utile questo tutorial e iscrivetevi al canale. presto arriveranno tante novità, nuove cover, nuova musica, tanti nuovi contenuti per il canale. Ciao e buon'estate!